Un super luccio da 8,5 kg lungo ben 112 cm è stato catturato sabato nel lago di Lagolo da un giovane pescatore di arco, Valentino De Biasi. Si tratta di un esemplare da record, il più grosso mai pescato in quello specchio d'acqua. De Biasi, seppur giovanissimo, coltiva questa passione da ben 10 anni, ereditata dal nonno Bruno Agnolin. La pesca miracolosa si unisce alle altre avvenute recentemente e che hanno interessato soprattutto il lago di Garda e testimonia ancora una volta la ricchezza e la straordinarietà del patrimonio ittico che popola i laghi e i corsi d'acqua della nostra regione. Ci troviamo a casa di Valentino De Biasi all'infano di Arco e come vedete siamo in compagnia di questa fantastica preda che lui ha catturato. Dove hai fatto questa fantastica cattura? Sul lago di Lagolo. È stato difficile catturare questo fantastico Luccio? Molto, ho impiegato circa 5-6 mesi in questa cattura, ci sono stato dietro a lungo. Quindi lo stavi tenendo d'occhio da un bel po' di tempo? Esattamente. Le difficoltà maggiori nel catturarlo? Le difficoltà maggiori erano farlo boccare, per il resto è stata dura ma dopo circa un'ora di combattimento sono riuscito a tirarlo fuori dall'acqua. È stato dalla riva o da una barca? Dalla riva. Da quanto tempo vai a pesca? Circa 10 anni. E chi ti ha passato questa passione, questo hobby? Mio nonno, Agnolin Bruno. Ci puoi dire le caratteristiche di questo Luccio? Certamente, è lungo 1 metro e 12 centimetri per 8 chili e mezzo. Questo Luccio, sicuramente questo esemplare, è il più grande mai catturato sul lago di Lagolo. Che attrezzatura hai usato? Ho utilizzato una canna da spinning, green line e poi un intrecciato, non mi ricordo bene la marca, comunque è misura del 12, tiene circa 12 chili di peso e un pesciolino acquistato dai cinesi. Quando ha boccato ti sei accorto subito che la preda era così grossa? Sì, sì, certamente. Mi ha corso dietro da circa la metà del lago dove avevo lanciato l'esca e in seguito l'ho visto subito sotto il pontile. Da lì ho capito subito le sue dimensioni anche dopo quando ho iniziato a tirare. Mi ha quasi buttato giù nel lago, insomma. Cosa pensi di farne? Penso, sinceramente non so cosa farne. Penso o di mangiarlo con numerosi amici oppure di imbalsamarlo per avere un ricordo.